Musica Alle nostre spalle il palco, il consueto palco ormai alla seconda giornata di Campus Party alle ore 10 si scatena quella che è la platea e il main stage per ballare con i Campus Eros Noi siamo qui con Maria Teresa, Caterina Da dove venite e cosa studiate? Da Santa Maria Capovetere in provincia di Caserta e studio Ingegneria per l'Ammiente e il Territorio Vengo da Firenze, Università degli Studi di Economia Internazionale Come mai siete qui? Una di Santa Maria Capovetere, una di Firenze, eravate già amiche prima? No, ci siamo trovate per casa a pranzo, due anime solitarie, a Scroco Siamo ritrovate su un tavolo da pranzo praticamente, abbiamo iniziato a parlare e ci siamo trovate bene Cosa vi ha spinto a venire qua a Campus Party? Le start up, sto lavorando in una start up e quindi interessata in questo mondo Sono venuta Questa serie di convegni che stanno organizzando e i vari argomenti che trattano nelle varie conferenze Quale start up ti interessa? La mia? Sì, scusami, quale start up stai portando avanti? È una start up sulla ristorazione, è un po' più verticale, di nicchia e quindi stiamo trovando spunti per investimenti e cose varie Quindi se 2 più 2 fa 4 tu assumerai la tua collega che hai conosciuto qua a Campus Party Sì, non posso Oddio, oddio 2 più 2 però all'improvviso così a quest'ora si domande però calma, ci vuole una laurea No, sono per supporto morale probabilmente Ha preso stupendio, è giusto Il giullare di corte, capito? Mettono là col cappellino e ballo, mentre loro lavorano L'importante è che si innescano delle relazioni Poi se si lavora insieme ben venga però speriamo noi che potrete conoscervi anche alla fine di questi tre giorni Sì, come ti chiami? Certo Francesca, non preoccuparti Vedi come se? Sì, perché no che vieni da Milano, non ti preoccuparti Il numero di telefono ve lo siete scambiati? Il numero di telefono ve lo siete scambiati? Sì, sì Se lei non mi ha dato quello falso, sì Ancora non l'ho chiamata, quindi può tazzo che vada da quello falso Dai, simpaticissime, grazie, grazie e buon campus Grazie, ciao